Il problema, però, è che ovviamente si ritorna sempre allo stesso punto. C'è bisogno di soldi. I soldi, però, secondo me, cioè, dirsi che c'è bisogno di soldi e quindi accettare il fatto che vanno trovati tanti soldi significa che ti stai dicendo voglio vincere. Altrimenti non ti stai dicendo voglio vincere. Quello che noi dobbiamo fare, narrando le nostre posizioni, per farle comprendere a chi poi eventualmente eleggerà un qualsivoglia partito politico che nascerà, semmai nascerà, su queste posizioni, è la stessa cosa che deve fare chi scrive un film, un sceneggiatore. Quando una persona si siede davanti a un grande schermo, buio, in una sala, su una poltrona, con centenari di persone intorno, non sta andando a farsi raccontare una storia. Sta andando a farsi raccontare la sua storia. Cioè sta come aspettativa a quella che è il film, quella narrazione, quel programma televisivo, quel giornale, quel comizio politico, gli dia delle risposte alle sue domande. Questo deve fare un film, questo deve fare un documentario, questo dovrebbe fare una comunicazione politica. Cioè narrare, ma narrare è non una storia. Sapere che quando narri, chi ti ascolta vuole ascoltare la sua storia. Cioè quel personaggio lì, la persona che ascolta deve medesimarsi nel personaggio che vede sullo schermo o che legge in un libro o che vede in televisione. Perché quel personaggio sta raccontando la sua storia? E perché vuole sentire la sua storia? Perché vuole avere delle risposte a delle domande alle quali non sa che risposta dare. Noi in Compix abbiamo tentato di fare un prodotto con un'ambizione davvero molto complicata. Cioè un prodotto che, come hai detto tu, andasse al cinema. Ora, ma che però, diversamente da molte narrazioni cinematografiche, fosse il più comprensibile possibile. Soprattutto perché il tema era molto complicato. Ora, quando tu devi essere molto comprensibile e quasi di da scalico, è facile che scivoli nella televisione o è facile che scivoli nell'inchiesta televisiva giornalistica. E noi, appunto, invece volevamo andare al cinema. Perché volevamo andare al cinema? Questo io credo sia molto importante, questo ragionamento, per capire che cosa si può fare. Volevamo andare al cinema, cioè volevamo che il film fosse proiettato nelle sale, oltre che poi in televisione, perché in televisione c'è andato, l'ha comprato la Rai, è stato comprato la Russia Today, insomma è stato venduto anche in tutto il mondo. Volevo andare in sala perché la sala è, ancora oggi, un luogo di autorevolezza. Cioè, quando ti siedi al cinema, ciò che vedi è automaticamente, aprioristicamente, autorevole. Proprio perché tu sai, seppur inconsciamente, anche se non conosci le dinamiche del mercato della distribuzione, che se quel film è arrivato fino a lì, può dire che ha superato diversi filtri. E siccome i temi di Pix, che sono appunto la lotta contro lo smascheramento, insomma, del sistema dell'Unione Europea, della BCE, dei trattati, era un discorso molto complesso, e soprattutto un discorso che pochi fanno in Italia, ancora, l'obiettivo della sala era quello di intanto, intanto facciamo in modo che chi lo guarderà abbia superato una prima autocensura. E cioè, vabbè, questo è complottismo da YouTube. La prima censura è superata perché quello non è complottismo da YouTube, semmai è complottismo da cinema, perché sta in sala. E questo, in qualche modo, toglie un po' di, diciamo così, disintegra la parola, il primo termine, complottismo. Mi sono reso conto che la maggior parte delle persone che usciva dalla visione di Pix, quando non era già, a prescindere, d'accordo con i temi, e che però vagamente li aveva assaggiati, molti di loro mi hanno detto che dopo aver visto Pix, e quindi dopo che hanno visto che quei temi erano su quel livello di autorevolezza, ripeto, non il film in sé, ma la piattaforma dalla quale veniva emanato, cioè la sala, e i nomi che giravano intorno a questi temi, quando l'ha visto si è detto ma allora io queste cose le posso pensare. Perché se un film che racconta delle cose che io vagamente penso, da un po' di tempo, va in sala, le dice, va in sala con quell'autorevolezza, allora significa che mi posso permettere di pensarle anche io, e quindi di dirle, senza autocensurarmi, e quindi di poterne parlare anche con gli altri. Insomma, mi sono reso conto che c'era davvero tantissima gente che questi temi li mastica, più o meno consapevolmente, o più o meno approfonditamente, ma non era sicura che non fossero complottismo, non era sicura che non fossero sullo stesso livello di chi parla di rettiliani o di terra piatta. Li convinceva però siccome la narrazione mainstream li tratta da temi complottistici, aveva paura di esporsi. Insomma, in qualche modo, tantissime persone hanno fatto coming out con se stesse e spero l'abbiano fatto anche in famiglia, con gli amici, sul lavoro, parlando di questi temi. No, per quanto riguarda gli elettori, la gente, il popolo, i lettori di giornali e televisivi, al momento loro non possono fare nulla perché non c'è nulla che li stimoli ad approfondire. Dobbiamo fare qualcosa noi. Allora, se vogliamo fare qualche cosa di continuo che col tempo crei quella giusta faccia egemonia culturale, forse dovremmo, e questo devo ringraziare Antonello Martinez e Gianfreda che mi ha molto parlato dell'esperienza spagnola di Podemos, dovremmo fare quello che ha fatto Podemos e grazie a questo è arrivato al potere anni fa. Cioè, lui è riuscito non propriamente a mettere in piena di un medium una televisione proprietaria, un medium proprietario, però è riuscito a costruire un appuntamento televisivo, fondamentalmente online, costante, per diversi mesi, con una struttura, un linguaggio, uno stile, che è una narrazione all'altezza degli standard internazionali, che quindi inevitabilmente, appunto, ritorniamo sempre allo stesso discorso, genera quell'autorevolezza di cui la gente ha bisogno per sedersi tranquilla e dire va bene, non è spazzatura, perché la fotografia è uguale ai film che vedo in televisione, il montaggio è uguale ai film che vedo al cinema, la grafica è uguale ai film che vedo all'estero, allora, allora, ok, posso ascoltare. Dovremmo fare questo. I soldi si trovano, e si trovano senza compromessi, perché poi c'è quest'altro discorso, ok, trovo i soldi, però poi cosa vogliono in cambio? E l'esperienza personale, anche qui, delle ferite nel sistema, delle maglie larghe, ci sono. Bisogna mettersi a cercarle, facendolo diventare un lavoro, cioè il lavoro di cercare i soldi, cioè cercare i soldi deve diventare un lavoro, però alla fine secondo me paga, e a quel punto si può mettere in piedi qualche cosa tipo quello che ha fatto Podemos, in cui intervistava ogni settimana con un appuntamento che è diventato, cioè è diventato seguitissimo dal popolo qualunque, però appunto non stiamo parlando di esperti, non si parlavano tra di loro, c'era un pubblico ampio e molto stratificato, in cui appunto parlava delle cose che poi sarebbero diventati, diciamo così, i contenuti della campagna elettorale, che poi ha vinto, con esperti molto, molto importanti che provenivano da tutto il mondo, e quindi aggiungeva autorevolezza e questo probabilmente ha fatto la differenza, oltre che ovviamente i programmi importanti e la vicinanza ai temi degli ultimi, eccetera, eccetera. Io poi nella mia testa lo affiancherei a qualcosa che può sembrare un po' obsoleto, ma secondo me oggi funziona, sulla scia del successo delle canarne a Channè, cioè quel giornale quotidiano francese che ancora va avanti e che costa tanto per quante poche pagine ha, però funziona tantissimo, lo affiancherei anche a un quotidiano di lotta, che però deve, secondo me, così come dovremmo fare anche dal punto di vista mediatico e audiovisivo, non deve prendersi troppo sul serio, perché questo è l'altro grande problema. una delle cose che piace, ve lo dico per spiegarmi meglio, una delle cose che piace molto di questo nuovo progetto che stiamo facendo ai compratori esteri è che pur noi parlando di tragedie e di una situazione drammatica globale lo facciamo con l'ironia, o in certe volte con l'autoironia, che non smonta in nessun modo la serietà del dramma e della tragedia che stiamo raccontando, anzi la amplifica. L'autoironia, secondo me, viene percepita più o meno consapevolmente come una grande serietà. Mentre invece l'estrema serietà viene concepita come una grande, come ridicolo, come qualcosa di ridicolo. Se dovessimo riuscire a mettere in piedi le cose di cui ho parlato, dovremmo ragionare molto su come raccontare quello che vogliamo raccontare e non dobbiamo aver paura di farlo in una maniera leggera, perché la leggerezza, se gestita bene, invece appunto è un grande trampolino per la serietà della lotta che stiamo facendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.